Secondo la scienza vedica, il suono è considerato un principio creativo fondamentale. Nella visione cosmologica Dei Veda, antichi testi sacri dell'India, il suono è visto non solo come un mezzo di comunicazione, ma come una forza primordiale che ha il potere di creare, trasformare e definire la realtà stessa. Ecco alcuni motivi per cui il suono è considerato così potente nella scienza vedica, suono primordiale e creazione. Nella filosofia vedica, l'universo è nato da un suono primordiale, spesso identificato con OM o AUM. Questo suono è considerato l'emanazione sonora del divino, il principio vibratorio da cui tutto ha avuto origine. La recitazione di OM è vista come un modo per connettersi con questa energia creativa originaria. Vibrazioni e manifestazione I Veda insegnano che il suono è una vibrazione e che queste vibrazioni hanno il potere di manifestare la realtà fisica. Ogni cosa nell'universo è vista come una manifestazione di queste vibrazioni cosmiche. Pertanto, il suono è visto come un mezzo per influenzare e modellare la realtà materiale. Parola come energia Nella scienza vedica, la parola Vak è considerata una forma di energia che può influenzare il mondo fisico e spirituale. Le parole, specialmente quando formulate in mantra, sono viste come veicoli di potere spirituale e creativo. Scienza del NAD Yoga Il NAD Yoga, o lo yoga del suono, è una pratica che sfrutta il potere dei suoni sacri per la realizzazione spirituale. Si basa sulla comprensione che il suono è una via per l'espansione della coscienza e per l'accesso a stati superiori di consapevolezza. Mantra e creazione I mantra, che sono formule sonore o preghiere in sanscrito, sono considerati strumenti potenti per la creazione e la trasformazione. Si crede che la recitazione di mantra possa portare a cambiamenti fisici, mentali, emotivi e spirituali in quanto modifica le vibrazioni dell'individuo e dell'ambiente circostante. Risonanza e connessione universale Nella visione vedica, tutto nell'universo è interconnesso attraverso un campo di energia vibrante. Il suono è un modo per interagire con questo campo, creando risonanza e armonia, o di dissonanza e cambiamento. In sintesi, nella scienza vedica, il suono è molto più di un fenomeno fisico, è una forza cosmica che ha il potere di creare, sostenere e trasformare l'universo. Attraverso il suono, in particolare nella forma di mantra e canti sacri, si accede a un potere che va oltre il materiale, toccando le sfere più profonde dell'esistenza spirituale.